Miledi e cavalieri, prendete posto alla tavola rotonda di Revo Artù e benvenuti e benvenute, bentornati e bentornate qui alla tavola rotonda di Revo Artù con una nuova puntata di Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Oggi leggiamo il capitolo 17. So che la domenica esce di solito Harry Potter, ma Percy l'abbiamo un pochino abbandonato in queste ultime due settimane in cui c'è stato un rallentamento. Abbiamo ricominciato però, avete visto i video, sono cominciati a uscire di nuovo con regolarità, quindi oggi uscirà eccezionalmente, visto che la domenica era di Harry, il nostro buon Percy. Anche perché, devo essere onesto, non vedo l'ora veramente di vedere come va avanti perché è iniziato il climax della storia. Manca un solo giorno al sostizio d'estate, i nostri eroi devono in qualche modo concludere la loro missione eroica, quindi non vedo veramente l'ora di vedere come andrà l'impresa. Sicuramente andrà bene, nel senso che nessuno si aspetta un finale tragico, però voglio veramente... Sono curioso di capire chi ha rubato una folgore, che cosa se Luke, secondo i miei sospetti, è effettivamente cattivo. Vedremo, vedremo. Andiamo a leggere, andiamo a leggere, rilassatevi, stendetevi se potete, lasciate fuori qualsiasi pensiero e... Andiamo ad immergerci insieme nel... capitolo 17. Facciamo shopping nel negozio di materassi d'acqua. Fu un'idea di Annabeth. Ci fece salire su un taxi di Las Vegas, come se avessimo davvero i soldi per permettercelo, e disse l'autista, Los Angeles, prego. Il tassista masticò il suo sigaro e ci soppessò con lo sguardo. Sono a 200 chilometri, pagamento anticipato. Accetta le carte di debito dei casino? chiese Annabeth. Lui alzò le spalle. Dipende, come le carte di credito. Prima le devo strisciare. Annabeth gli passò la sua carta lotus verde. Il tipo la guardò scettico. La strisci, lo invitò Annabeth. Lui lo fece. Il tassametro prese a vibrare, le luci lampeggiarono. Alla fine, dopo il segno del dollaro, comparve il simbolo dell'infinito. Dopo che il sigaro gli fu caduto di bocca, il tassista si voltò a guardarli con tanto d'occhi. Da che parte di Los Angeles, di preciso? Vostra altezza? Il molo di Santa Monica. Annabeth drizzò un po' la schiena. Capì che la storia dell'altezza le era piaciuta. Si sbrighi e potrà tenere il resto. Forse non avrebbe dovuto dirlo. Il tachimetro del taxi non scese mai sotto i 150 per tutto il deserto del Mojave. Lungo la strada avemmo un sacco di tempo per parlare. Raccontai ad Annabeth e Grover il mio ultimo sogno, ma più mi sforzavo di ricordarne i particolari, più si facevano vaghi. A quanto pareva, il casino Lotus mi aveva mandato in corto circuito la memoria. Non riuscivo a rievocare il suono della voce del servo invisibile, anche se ero sicuro che si trattasse di qualcuno che conoscevo. Il servo aveva chiamato il mostro nel baratro in modo diverso, oltre al mio signore. Aveva usato un nome, un titolo speciale. Il silente, suggerì Annabeth. Il ricco sono entrambi degli appellativi di Ade. Forse, risposi, anche se nessuno dei due mi sembrava giusto. «Quella strada del trono, però, somigliava proprio a quella di Ade», commentò Grover. «E' così che di solito la descrivono». Scossi la testa. «C'è qualcosa che non torna. La strada del trono non è stata la parte principale del sogno. E la voce del baratro... non lo so. Solo che non sembrava la voce di un dio». Annabeth sgranò gli occhi. «Che c'è?» chesi. «Oh, niente. Stavo solo... no, deve essere Ade. Forse ha mandato questo ladro, questa persona invisibile. Arrubare la folgore. Qualcosa è andato storto. Tipo cosa?» «Io non lo so», rispose lei. «Ma se ha sottratto il simbolo del potere di Zeus dall'Olimpo e aveva l'idea alle calcagna, beh, un sacco di cose potevano andare storte». Perciò, forse ha dovuto nascondere la folgore o magari l'ha persa. Comunque sia, non è riuscito a portarla ad Ade. «Non è questo che ha detto la voce del tuo sogno? Il tizio ha fallito. Questo spiegherebbe cosa stavano cercando le furie quando ci hanno assalito sull'autobus. Forse pensavano che avessimo recuperato la folgore. Non capivo che cosa le fosse preso. Era pallida. «Ma se avessi davvero recuperato la folgore», obiettai, «perché stai andando all'inferi adesso?» «Per minacciare Ade», suggerì Grover. «Per corromperlo, ricartarlo e farti restituire tua madre». «Fischiai». «Certo che sei sveglio per essere una capra». «Oh, beh, grazie». «Ma la cosa nel baratro ha parlato di due oggetti», aggiunsi. «Se uno è la folgore, l'altro che cos'è?» Grover scosse la testa, chiaramente disorientato. Annabeth mi guardava come se sapesse già cosa stavo per chiedere e volesse convincermi in silenzio a non farlo. «Tu ti sei fatto un'idea sulla cosa che c'è in quel baratro, vero?» le chiesi. «Cioè, nel caso in cui non si trattasse di Ade?» «Persi, lasciamo stare, perché se non si tratta di Ade...» «No, deve essere Ade per forza». Il deserto ci scorreva accanto in tutta la sua desolazione. Superammo un cartello che diceva «Confine della California, 12 miglia». Ebbi la sensazione che mi stesse sfuggendo un'informazione semplice e fondamentale. Era come quando fissavo una parola che avrei dovuto conoscere, ma che non riuscivo a identificare perché un paio di lettere continuavano a fluttuare sulla pagina. Più riflettevo sulla mia impresa, più mi convincevo che affrontare Ade non era la vera risposta. C'era qualcos'altro in ballo, qualcosa di persino più pericoloso. Ma il problema era che ci stavamo precipitando verso l'inferi alla velocità di 150 km all'ora, puntando tutto sul fatto che Ade avesse la folgore di Zeus. Se una volta giunti alla meta avessimo scoperto di aver torto, non avremmo avuto il tempo di correggere il tiro. La scadenza del sostizio sarebbe passata e sarebbe scoppiata la guerra. La risposta è nell'inferi. Mi rassicurò Annabeth. Hai visto gli spiriti dei morti persi ed esiste un solo posto in cui questo è possibile. Stiamo facendo la cosa giusta. Cerco di tirarci su di morale suggerendo una serie di ingegnose strategie per entrare nel regno dei morti, ma io non riuscivo a seguirla con entusiasmo. Le incognite erano troppe. Era come sgobbare per un compito in classe senza conoscere l'argomento. E, credetemi, era una cosa che già avevo fatto a sufficienza. Il taxi sfrecciava verso ovest. Ogni follata di vento nella Valle della Morte suonava come uno spettro. Ogni volta che sentivo fischiare i freni di un autotreno pensavo al sibilo serpentesco di Echidna. Al tramonto, il taxi ci scaricò sulla spiaggia di Santa Monica che era identica alle spiagge californiane dei film, tranne che per il tanfo. C'erano giostre sul molo, palme lungo i marciapiedi, barboni che dormivano sulle dune di sabbia esser fisti in attesa dell'onda perfetta. Ci avvicinammo alla riva. E adesso? Chiese Annabeth. Il Pacifico si stava tingendo d'oro alla luce del tramonto. Pensai all'ultima volta in cui ero stato sulla spiaggia di Montac, sulla sponda opposta del paese, a scrutare un altro oceano. Come poteva esistere un dio che controllava tutto questo? Come diceva sempre il professore di scienze, due terzi della superficie terrestre erano coperti d'acqua. Come poteva essere il figlio di qualcuno così potente? Percy, mi chiamò Annabeth, che stai facendo? Continuai a camminare, con l'acqua fino alla vita, poi fino al petto. Lei mi gridò dietro. Sai quanto è inquinata quell'acqua? C'è ogni genere di rifiuto to... Fu in quel momento che immersi la testa. All'inizio tratteni il fiato. È difficile costringersi a ispirare acqua. Alla fine non ce la feci più e apri la bocca. Era come già successo. Riuscì a respirare normalmente. Mi diressi a largo. Non avrei dovuto vederci bene fra le tenebre, eppure riuscivo a scorgere tutto. Percepivo la superficie ondulata del fondale. Distinguevo le colonie di ricci che punteggiavano la sabbia. Riuscivo perfino a vedere le correnti, i flussi d'acqua calda e fredda che ruoteavano insieme. Qualcosa mi strusciò sulla gamba. Abbassai lo sguardo e per poco non schizzai come un missile in superficie. Era uno squalo maco, un bestione di un metro e mezzo di lunghezza. Ma non mi stava attaccando. Mi strovinava il muso contro, seguendomi come un cagnolino. Esitando, sfiorai la pinna dorsale. Lui arcuò leggermente il dorso, come per invitarmi a stringere. Afferrai la pinna con entrambe le mani e lo squalo si slanciò in avanti, trascinandomi con sé nell'oscurità. Mi deposi sul bordo di una fossa oceanica, dove il banco di sabbia terminava in una voragine enorme. Era come stare sull'ordo del Grand Canyon a mezzanotte, senza vedere nulla, ma con la consapevolezza del vuoto. La superficie scintillava oltre 40 metri sopra di me. Sapevo che la pressione avrebbe dovuto schiacciarmi, ma del resto non avrei dovuto nemmeno essere capace di respirare. Mi chiesi se ci fosse un limite alla profondità a cui potevo accedere. Chissà se potevo immergermi fino a toccare il fondo del Pacifico. Poi vedi brillare qualcosa nell'oscurità, qualcosa che si fece sempre più grande e luminoso man mano che saliva e si avvicinava. La voce di una donna, come quella di mia madre, chiamò Percy Jackson. Ormai ero poco distante, la sua figura diventò più nitida. Aveva affluenti capelli neri e indossava un abito di seta verde. Era circondata da una lone di luce tremula e i suoi occhi erano di una bellezza così sconcertante che notai a malapena il cavalluccio marino, o meglio, lo stallone marino, che stava cavalcando. Smonto dalla sella, il cavalluccio marino e lo squalo guizzarono via e sembrava che stessero giocando a rincorrersi. La donna subacquea mi sorrise. «Se è arrivato lontano?» persi Jackson. «Bravo!» Non sapevo cosa fare, perciò mi inchinai. «Lei è la donna che mi ha parlato nel Mississippi?» «Sì, figliolo. Sono una nereide, uno spirito del mare. Non è stato facile apparire così lontano dal mare, ma le naia di, le mie cugine d'acqua dolce, hanno sostenuto la mia forza vitale. Onorano il divino Poseidone, anche se non servono alla sua corte.» «E lei serve alla corte di Poseidone?» «A noi.» «Erano passati molti anni dall'ultima nascita di un figlio del dio del mare. Ti abbiamo osservato con grande interesse.» «A un tratto ricordai i volti che intravedevo da bambino fra le onde, a largo di Montac, riflessi di donne sorridenti. Come per molte altre assurdità della mia vita, non ci avevo mai badato troppo prima di allora. «Se a mio padre le interessa così tanto, chiesi, perché non è qui? Perché non parla con me?» Una corrente fredda si levò dagli abissi. «Non giudicare troppo duramente il Signore del mare», mi rispose la nereide, «si trova sull'orlo di una guerra non voluta. Molte questioni occupano il suo tempo. E poi, lui non può aiutarti direttamente. È proibito. I dei non possono fare favoritismi. Nemmeno verso i propri figli, soprattutto verso di loro. I dei possono operare solo tramite influenza indiretta. Ecco perché ti porto un avvertimento e un dono». Tesi la mano, tre perle bianche lampeggiarono nel suo palmo. «Sono a conoscenza del tuo viaggio verso il regno di Ade», disse. «Pochi mortali lo hanno compiuto e sono sopravvissuti. Orfeo, che aveva una grande dote musicale. Ercole, che aveva una gran forza. Udini, che riusciva a liberarsi perfino dagli abissi del Tartaro. Tu possiedi questi talenti? Ehm, no, signora. Ah, ma tu possiedi qualcos'altro, Percy. Hai dei doni che hai appena cominciato a conoscere. Gli oracoli hanno predetto un futuro grandioso e terribile per te, se dovessi giungere all'età virile. Poseidone non permetterà che tu muoia prima che sia venuto il tuo tempo. Perciò, prendi queste e, quando ti troverai nel bisogno, getta una perla ai tuoi piedi. Cosa accadrà? Questo dipende dal bisogno, ma ricorda, ciò che appartiene al mare, al mare farà sempre ritorno. E l'avvertimento? Un bagliore verde guizzò nei suoi occhi. Segui il tuo cuore, o perderai tutto. Adesi nutre del dubbio e della disperazione. Cercherà di ingannarti, ti spingerà a dubitare del tuo giudizio. Quando sarai nel suo regno, non ti lascerà mai andare di sua spontanea volontà. Abbi fede, buona fortuna, Percy Jackson. Richiamò il suo cavalluccio marino e ripartì al galoppo negli abissi. Aspetti, gridai. Su, al fiume, mi ha detto di non fidarmi dei doni. Quali doni? Addio, giovane eroe, mi gridò lei di rimando, mentre la voce si affievoliva nell'abisso. Devi ascoltare il tuo cuore. Diventò una balugirante macchiolina verde e infine scomparve. Avrei voluto seguirla. Avrei voluto visitare la corte di Poseidone. M'alzai lo sguardo e vidi il tramonto che si squiriva in superficie. I miei amici mi stavano aspettando. Avevamo così poco tempo. Mi slanciai con uno scatto verso la costa. Tornato sulla spiaggia, i vestiti mi si asciugarono addosso in un attimo. Raccontai agli altri cosa era successo e mostrai loro le perle. Annabeth fece una smorfia. Ogni dono ha un prezzo. Questo è gratis. No, scosse la testa. Nessuno dà niente per niente. È un vecchio detto greco che si traduce molto bene nella nostra lingua. Ci sarà un prezzo da pagare. Aspetta e vedrai. E con questa felice considerazione voltammo le spalle al mare. Con qualche spicciolo prelevato dallo zeno di Ares prendemmo un autobus diretto a West Hollywood. Mi mostrai all'autista la bolla di accompagnamento con l'indirizzo dell'inferi che avevo preso all'emporio di Zia M, ma lui non aveva mai sentito parlare degli studi di registrazione RIP. Mi ricordi qualcuno che ho visto in TV? Mi disse. Sei un attore, per caso? Io faccio la controfigura per un sacco di ragazzini del cinema. Oh, ecco! Lo ringraziamo e scendemmo subito alla prima fermata. Vagammo a piedi per chilometri alla ricerca dei RIP. Nessuno, però, sembrava sapere dove fossero. Nell'elenco del telefono non comparivano. Per due volte fummo costretti a infilarci in un vicolo per evitare un'auto della polizia. Poi, davanti alla vetrina di un negozio di elettrodomestici, per poco non mi venne un colpo. Una TV accesa stava mandando in onda un'intervista con qualcuno dall'area molto familiare, il mio patrigno, Gabe il Puzzone. Parlava con Barbara Walters, neanche fosse una celebrità. Lei lo stava intervistando nel nostro appartamento, nel bel mezzo di una partita a poker, e seduta accanto a lui c'era una biondina che gli faceva coraggio con dei colpetti sulla mano. Sulla guancia di Gabe luccicavano alla crema finta. Stava dicendo, onestamente, signora Walters, se non fosse per il sostegno di Miss Sugar, la mia terapeuta per il superamento del dolore, sarei uno straccio. Il mio figliastro si è preso quanto di più caro avesse al mondo. Mia moglie, la mia Camaro. Mi dispiace, non ci riesco. Ecco, America. Barbara Walters si voltò verso la telecamera. Un uomo distrutto. Un adolescente seriamente disturbato. Lasciate che vi mostri di nuovo l'ultima fotonota di questo giovane ricercato scattata a Denver una settimana fa. Sullo schermo comparve una foto sfocata di me, Annabeth e Grover fuori dal ristorante in Colorado mentre parlavamo con Ares. Chi sono gli altri ragazzi nella foto? Si chiese Barbara Walters in tono drammatico. Chi è l'uomo con loro? Chi è Percy Jackson? Un delinguente? Un terrorista? O la vittima di uno spaventoso nuovo culto che l'ha sottoposto al lavaggio del cervello? Dopo la pubblicità parleremo con un rinomato psicologo infantile. Resta con noi, America! Andiamo, mi incitò Grover tracinandomi via prima che sfondasse la vetrina con un pugno. Si fece buio e vari personaggi dall'aria affamata cominciarono a uscire in strada pronti a entrare in scena. Ora, non fraintendetemi, sono di New York, non sono uno che si spaventa facilmente, ma Los Angeles dava una sensazione totalmente diversa rispetto alla grande mela. a casa tutto sembrava vicino, per quanto la città sia grande arrivi dappertutto senza perderti mai. Il reticolo stradale e la metro hanno una logica, c'è un sistema alla base delle cose, un ragazzino è al sicuro, a meno che non sia proprio stupido. Los Angeles non è così, è tentacolare, caotica, intricata. Mi ricordava Ares. Non le basta essere grande, deve dimostrare la sua grandezza essendo anche chiassosa, impossibile e labirintica. Non sapevo proprio come avremmo fatto a trovare l'ingresso dell'inferi entro il sostizio d'estate, ovvero entro un giorno. Superamo balordi, barboni e venditori di ogni genere che ci squadrarono con aria scaltra, come per valutare se valesse la pena rapinarci. Davanti all'ingresso di un vicolo una voce nel buio disse Ehi, voi! E come un idiota mi fermai. Prima che me ne rendessi conto fummo circondati da una banda di ragazzini. Erano sei in tutto, dei ragazzini bianchi con i vestiti costosi e la faccia cattiva. Mi ricordavano quelli della Yensi, marmocchi pieni di soldi che giocavano a fare i duri. Distinto tolse il cappuccio a vortice. Quando la spada apparve dal nulla arretrarono, ma il loro capo era molto stupido oppure molto coraggioso perché continuò a farsi avanti con un coltello a serramanico in mano. Commisi l'errore di sferrare un colpo. Il tipo gridò, ma doveva essere mortale al cento per cento perché la lama gli oltrepassò il petto senza lasciargli un graffio. Abbassò lo sguardo. Ma che diavolo? Con un rapido calcolo intuì che avevamo all'incirca tre secondi prima che lo shock si trasformasse in rabbia. Scappiamo! gridai ad Annabeth e Grover. Togliamo di mezzo due della banda con una spinta e ci precipitammo in strada senza sapere dove andare. Svoltammo bruscamente in un vicolo. Laggiù! esclamò Annabeth. Solo un negozio dell'isolato sembrava aperto. Le vetrine sfolgoranti di luce al neon. L'insegna sopra la porta diceva qualcosa tipo Da Crusty Le Lergierde de l'Altermoss de Qua. Da Crusty la reggio del materasso ad acqua? tradusse Grover. Non era il genere di posto in cui mi sarei entrato a meno che non fosse proprio un'emergenza ma quella decisamente lo era. Ci precipitammo all'interno e corremmo a nasconderci dietro un letto. Mezzo secondo più tardi la banda di ragazzini passò di corsa davanti alla vetrina Penso che li abbiamo seminati disse Grover con il fiato grosso Una voce dietro di noi tuonò Seminato chi? Sobbalziamo per lo spavento Alle nostre spalle c'era un tizio che somigliava a un rapace con un completo checio all'indosso Era alto almeno due metri ed era totalmente calbo Aveva la pelle grigia ruvida gli occhi dalle palpebre spesse e un sorriso freddo da rettile Si avvicinò lentamente ma ebbi la sensazione che avrebbe potuto muoversi in fretta se lo avesse ritenuto necessario Con quel completo avrebbe fatto un figurone al casino Lotus Risaliva decisamente ai gloriosi anni 70 La camicia era di seta e a motivo cashmere lasciata per metà aperta a scoprire il petto glabro I risvolti della giacca di velluto erano larghi come piste d'atterraggio e le catene d'argento che portava al collo non riuscivo nemmeno a contarle Sono Crusty si presentò con un sorriso giallo tartaro Ci scusi per come siamo entrati gli dissi stavamo solo dando un'occhiata Vuol dire che vi stavate nascondendo da quei pochi di buono rettificò Girano da queste parti tutte le sere Mi arriva un sacco di gente grazie a loro Che ne dite di dare un'occhiata a uno dei miei letti Stavo per dire no grazie quando lui mi mise la sua grossa zampa su una spalla e mi spinza all'interno del salone C'era ogni genere di letto che si possa immaginare tutti ovviamente muniti di materasso ad acqua diversi tipi di legno diverse fantasi di lenzuola di taglia grande grandissima colossale Questo è il mio modello più popolare Crusty allargò le mani mostrando con orgoglio un letto coperto di lenzuola di raso nero con della lava lampa incassate nella testiera con il materasso che vibrava sembrava un budino al petrolio è come il massaggio di milioni di mani ci spiegò Crusty coraggio provatelo fatevi un sannellino non è un problema tanto oggi non c'è gente ehm obiettai non credo che il massaggio di milioni di mani esclamò Grover e si tuffò oh forte ragazzi mmm disse Crusty accarezzandosi la pelle ruvida quasi 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 cosa chiesi lui guardò Annabeth fammi un favore dolcezza prova quello laggiù dovrebbe andare Annabeth replicò ma cosa lui la rassicurò con delle lievi pacchie sulle spalle e l'accompagnò davanti al modello Safari Deluxe con dei leoni scolpiti sul telaio in tec e una trapunta leopardata quando Annabeth si rifiutò di stendersi lui la spinse ehi protestò lei Crusty scocchiò le dita ergo dai lati del letto spuntarono delle corde sferzanti che si attorcigliarono attorno ad Annabeth legandola al materasso Grover cercò di alzarsi ma le corde spuntarono anche dal suo letto di raso nero immobilizzandolo non è forte gemette la voce che vibrava per via del massaggio da un milione di mani non è per niente forte il gigante guardò Annabeth poi si girò verso di me e sorrise quasi maledizione io cercai di allontanarmi ma la sua mano schizzò in avanti e mi si strinse attorno al collo diamine ragazzo non preoccuparti ne troverò uno fra un secondo lascia andare i miei amici oh sicuro lo farò ma prima devo aggiustarli in che senso tutti i letti sono luoghi lunghi esattamente un metro ottanta vedi i tuoi amici sono troppo bassi devo aggiustarli Annabeth e Grover continuarono a divincolarsi non sopporto le misure imperfette borbottò Crusty ergo una nuova serie di corde balzò fuori dalle testiere e dai piedi dei letti avvolgendosi attorno alle caviglie e le lascelle di Grover e Annabeth le corde cominciarono a tendersi tirando i miei amici per l'estremità eh non ti preoccupare mi disse Crusty è solo uno stiramento sette otto centimetri in più sulla spina dorsale potrebbero persino sopravvivere ora perché non troviamo un letto anche per te che ne dici perzi gridò Grover stavo ragionando in fretta sapevo di non potercela fare da solo contro quel venditore gigante e avrebbe spezzato il collo prima ancora che fossi riuscito a estrarre la spada il suo vero nome non è Crusty vero? chiesi legalmente è Procuste ammise l'ostiratore aggiunsi ricordavo la storia il gigante che aveva cercato di uccidere Teseo con un eccesso di ospitalità durante il suo viaggio verso Atene già confermò il venditore ma chi se lo ricordo un nome del genere una cosa pessima per gli affari Crusty invece funziona molto meglio ha ragione suona proprio bene li brillarono gli occhi lo pensi davvero? oh assolutamente ribadì e la fattura di questi letti favolosa il gigante fece un largo sorriso senza però allentare la presa sul mio collo è quello che dico ai miei clienti tutte le volte nessuno che si prenda mai la briga di osservare la fattura quanti letti con lavalampi incassate nella testiera hai mai visto? non molti esatto persi strillò Annabeth che stai facendo? la ignori consigliai a Procuste è una rompiscatole Crusty rise come tutti i miei clienti mai che misurassero un metro e ottanta esatto che sconsiderati e poi si lamentano se devo dargli una giustatina che cosa fa se sono più lunghi di un metro e ottanta? mi liberò il collo ma prima che potessi reagire allungò il braccio dietro a un bancone vicino e tirò fuori un'enorme ascia di bronzo a doppio taglio c'entro il soggetto il più possibile e mozzo tutto ciò che sporge dall'estremità ah feci io del clutendo mi sembra ragionevole ah finalmente un cliente con un po' di cervello ne sono lieto le corde adesso cominciavano a stirare i miei amici davvero troppo Annabeth era sempre più pallida Grover gorgogliava come un'oca strangolata allora Crusty continuai cercando di mantenere un tono spensierato lanciai un'occhiata alla targhetta del letto l'una di miele special a forma di cuore questo qui ha davvero degli stabilizzatori dinamici per fermare il movimento ondulatorio assolutamente provalo eh sì forse lo farò ma funziona anche con un tizio grande grosso come lei neanche un'onda garantito è impossibile no no è possibile si sedette con entusiasmo sul letto dando dei colpetti con la mano sul materasso neanche un'onda visto schioccai le dita ergo le corde avvilupparono Crusty e lo schiacciarono contro il materasso ehi centratelo al punto giusto ordinai le corde si regolarono al mio comando la testa e i piedi di Crusty sporgevano per intero dalle due estremità no gridò aspetta era solo una dimostrazione tolsi il cappuccio a vortice qualche piccola modifica non avevo scrupoli riguardo a quello che stavo per fare se Crusty fosse stato umano non l'avrei ferito se invece ero un mostro meritava di polverizzarsi per un po' mi vuoi prendere per il collo mi disse facciamo così ti faccio il 30% di sconto sui modelli più esclusivi penso che comincerò dall'alto sollevai la spada senza anticipo senza interessi per i primi sei mesi abbassai la spada Crusty smise di fare offerte tagliai le corde degli altri letti Annabeth e Grover si rimisero in piedi senza smettere di lamentarsi contorcersi e insultarmi sembrate più alti considerai molto divertente sbuffò Annabeth la prossima volta datti una mossa guardai la bacheca dietro il bancone di Crusty c'era una pubblicità del Corriere Espresso di Hermes e un'altra della nuova edizione completa dell'indirizzario mostruoso di Los Angeles le uniche pagine gialle mostruose di cui avrete mai bisogno sotto ancora c'era un vivace volantino arancione degli studi di registrazione RIP che offriva audizione per le anime degli eroi siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti l'indirizzo dei RIP era scritto sotto con tanto di mappa muoviamoci disse ai miei amici dacci ancora un minuto si lamentò Grover siamo stati quasi stirati a morte allora siete pronti per l'inferi annunciai sono soltanto in isolato da qui e finisce così il capitolo 17 e cavolo e cavolo e cavolo ci siamo ci siamo allora è un capitolo in realtà di preparazione a quello che è stato a quello che sarà lo scontro finale che ci ritroveremo ad affrontare penso tra tra veramente poco il Kindle mi dice che come completamento dell'opera stiamo al 75% quindi manca pochissimo manca pochissimo e sapremo i prossimi capitoli saranno veramente spumeggianti anche se immagino che anche il prossimo capitolo sarà di preparazione come avete visto questo capitolo è stato di preparazione a quello che sarà poi la scena finale diciamo la parte finale Percy ha ricevuto un dono un dono per poter fronteggiare Ade ma in realtà è bella è bello il fatto che ci abbia messo il dubbio l'autore attraverso le parole di Annabeth dicendo ogni dono ha un prezzo da pagare perché onestamente io non stavo dando per scontato questa cosa anzi pensavo che il padre appunto volesse aiutare Percy avesse fatto in modo di attraverso appunto l'anereide di dare queste perle questi aiuti certo misteriosi non sappiamo che cosa faranno cambieranno in base al bisogno ha detto l'anereide però non immaginavo non immaginavo che potessero nascondere un rovescio della medaglia quindi molto molto carina come cosa è anche giusta in realtà perché effettivamente niente è gratis gli dei non fanno mai niente senza un tornaconto a quanto pare anche soprattutto forse con i loro figli e devo dire che mentre leggevo quando Percy si immerge nell'oceano ho pensato cavolo lo vorrei avere io quel potere sarebbe bellissimo se ci pensate il solo respirare sott'acqua sarebbe bellissimo poter esplorare tutti i fondali marini senza aver bisogno di niente arrivare dove l'uomo non è mai arrivato perché è l'unica cosa che ancora non conosciamo del nostro mondo il mare perché le terre emerse ormai le abbiamo esplorate tutte non ci sono segreti da scoprire mentre il mare ancora no nel mare conosciamo pochissimo quindi sarebbe veramente bellissimo poter nuotare fino al più profondo punto del mare senza che nessun animale acquatico ci faccia del male perché appunto come avete visto Percy le creature del mare rispettano Percy essendo appunto tutte creature che fanno parte del regno di Poseidone quindi rispettano il figlio di Poseidone sarebbe bellissimo Annabeth ha capito che non è Ade non so perché ancora non voglia ammetterlo perché in realtà sarebbe anche utile far capire ai compagni di viaggio che cosa chi andranno ad affrontare sempre che secondo me è Crono e continuo a pensare che sia il titano Crono il Papa di Zeus però vedremo e però non capisco la reticenza paura ma non ha senso tanto se devono affrontare o forse non lo so non la capisco non l'ho capita la reticenza di Annabeth nel parlare devo essere sincero come devo essere onesto non conoscevo nemmeno il mito di questo gigante che aveva quasi ucciso Teseo ha detto giusto se non ricordo male Percy non me lo ricordavo cioè o meglio non l'ho mai non l'ho mai letto forse non l'ho mai conosciuto molto carina no questa cosa dei materassi come mi dicevate giustamente in un commento precedente al precedente video l'autore Rick Riordan dovrebbe essere lui finalmente forse l'ho imparato anche se la pronuncia penso sia sbagliata gioca tantissimo nel riscrivere i miti greci è molto molto bello anche se vi devo dire mi ha ricordato un po' l'espediente che utilizza Percy per sconfiggere questo gigante un po' come 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 era quella fiabba in cui c'era quello c'era quel gigante che poteva trasformarsi in tutto non mi ricordo la fiabba come si chiama però e e l'umano per sconfiggerlo gli dice ah ma tu puoi veramente trasformarti no il gatto con gli stivali era il gatto con gli stivali era il gatto che va da quello e gli dice ma tu ti puoi veramente trasformare in tutto il gatto con gli stivali non me lo sto ricordando oddio scrivetelo nei commenti perchè sto facendo un sacco di confusione però mi ricordo che c'era sto gigante che si poteva trasformare in qualsiasi cosa si e il gatto lo fa trasformare in un topo in un topo che poi se lo mangia e lì dice no non ci credo che puoi diventare un topo dai tu tu puoi fare a meno che il topo e il gigante diventava un topo e poi il gatto con gli stivali se lo mangiava più o meno Percy usa l'esperiente simile dice no non ci credo che questo è stabilizzato pure per uno alto come te quello si stende ergo imprigionato un po' stupido il nostro gigantello però amen carina è stata carina è un capitolo di transizione un capitolo di preparazione anzi cresce l'hype cresce l'hype perchè l'autore attraversano questi dubbi di Annabeth che è sempre Annabeth tra l'altro dubbio su o meglio timore nel dire il pensiero che ha su chi potrebbe essere il ladro della folgore o comunque chi è ordinato di rubare questa folgore ecco lei che dice a Percy i doni i doni però questo ci costerà ti costerà qualcosa sempre Annabeth quindi con questi dubbi con queste cose l'autore ci mantiene vivo la voglia di dire cacchio voglio vedere come continua anche se è un capitolo appunto di preparazione e quindi non vedo veramente l'ora non vedo veramente l'ora non mi ricordo quanti capitoli sono ma non dovrebbero mancarne tanti se mi dice il 75% perché mi ricordo che la nostra Milady Fedefer ha fatto tutte già le copertine di Percy però non mi ricordo il numero finale del capitolo per questo ho detto che non mi ricordo non perché ho letto il libro come sapete sono completamente blind su Percy e non sono andato a cercare nulla però non mi sto ricordando non mi sto veramente ricordando il numero però 75% non manca veramente nulla ormai detto questo Milady e Cavalieri voglio sapere voi che cosa ne pensate quindi vi aspetto nei commenti qua sotto lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci vediamo la prossima volta quando ci accomoderemo di nuovo sempre qui alla tavola rotonda di Reward 2 grazie a tutti